Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Tele Molise. In apertura vogliamo fare degli auguri speciali, degli auguri davvero sentiti ad una amica della nostra redazione sportiva, si tratta di Antonietta Bentivoglio, che nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo degli 80. Ma Antonietta è una signora assolutamente sempre molto attenta, sempre molto curata, che evidentemente cura moltissimo anche la sua persona. Quindi non li dimostra affatto ad Antonietta, che come dicevamo, grande amica della nostra redazione sportiva, ai figli Enzo, Bruna e Agostina, al genero Fabio, alla nora Lucia, alla nipote Michela, vanno davvero gli auguri più sinceri ed affettosi da parte mia personalissima e da parte di tutta la nostra redazione sportiva. Calcio di Lega Pro all'indomani dell'esclusione definitiva dal campionato? Si fanno diverse ipotesi sul futuro del calcio a Campobasso. Campobasso è letteralmente attonita rispetto alla conferma dell'esclusione dalla Lega Pro, la quinta ed ultima. Non ci sono altri organi a cui potersi appellare. È stata una stagione estiva caratterizzata esclusivamente da ricorsi e tribunali e da una guerra senza quartiere tra la società e la FIGC. Ieri ultimo atto che scrive la parola fine. Gesù e De Francesco hanno determinato la figura barbina che la città di Campobasso ha fatto sul territorio nazionale a livello calcistico. Una storia interrotta dopo un solo anno di professionismo a cui segue un grosso punto interrogativo sul futuro. Il tutto con i due reggenti rosso-blu che hanno ancora in mano la liquidità degli abbonamenti sottoscritti già nel mese di maggio. Una storia davvero singolare, per non dire unica, su tutto il territorio nazionale. Qualche ora dopo la conferma dell'esclusione del Campobasso ad opera del Consiglio di Stato è giunto lo svincolo d'autorità per tutti i tesserati del Campobasso, alcuni dei quali o forse la gran parte aveva già degli accordi orali con altre società nel momento chiave della crisi rosso-blu risalente al mese di luglio. Dopo lo svincolo d'autorità è ripreso il film dei saluti accorati dei calciatori alla piazza, già visto forse altre due volte nel corso dell'estate, molto poco calcistica. Pensando al futuro la situazione resta davvero molto tesa e con poche vie d'uscita apparenti. La manifestazione di interesse promossa dal Comune non ha fatto registrare alcuna richiesta reale. La stessa applicazione dell'articolo 52,10 delle NOIF per la società attuale potrebbe essere di non facile applicazione. Alla FIGC compete la parola ultima, cioè la facoltà di ammettere in sovranumero una società nel campionato di quarta serie. La guerra, anche legittima fatta da Gesuea, alla FIGC non pone il patron rosso-blu di buon occhio rispetto al palazzo. Situazione diversa a Teramo, altra società fuori dai professionisti. Ieri il Comune della città abruzzese ha diffuso una nota con cui ha affermato di avere spiegazione di accreditamento largamente positiva circa il progetto della nuova SSD città di Teramo a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani di sicura affidabilità. Insomma Teramo si era già portata avanti creando un'altra società che ora sarebbe pronta ad essere ammessa in sovranumero in serie D grazie al contributo di un gruppo di operatori del posto. Probabilmente in Molise la pronuncia di Barra Caracciolo risalente al 4 agosto ha prestato una serie di certezze di illazioni che si sono disgregate ieri. Campobasso si è risvegliato anche stamattina da quello che è un vero incubo calcistico ma è pure l'ennesima replica di un film visto tante volte. Un soggetto che viene nel capoluogo sbandierando un progetto vincendosi un campionato ma poi caduto su una buccia di banana dopo un solo anno di serie C. La storia si ripete nel male in una piazza purtroppo disastrata da una serie di pseudo imprenditori sbagliati. Una riflessione non può non essere fatta anche su un problema di comunicazione che si è sviluppato negli ultimi giorni. I social alimentano speranze e illusioni salvo poi scontrarsi con una realtà che deve essere costruita solo da sentenze di ben cinque organi diversi. Quando si tratta di organi giurisdizionali o di dibattimenti a poco possono valere le sensazioni, le opinioni personali o i pareri sparsi su una piattaforma. Contano solo le sentenze che, supportate da motivazioni adeguate, l'ultima in ordine di tempo, quella del Consiglio di Stato, hanno dato torto al Campobasso per ben cinque volte consecutive. Palla a volo maschile di serie B partirà lunedì la preparazione atletica dell'Energy Time Spike Devils. Appuntamento alle 18 presso la palestra Bertini-Montini-Cuoco in via San Giovanni a Campobasso. La rosa 2022-2023 è composta dal libero Marco Santucci, dagli schiacciatori Lorenzo Esposito, Enrico Scarpi, Gianmarco Rescignano e Simone Cannazza. Ultimo ad essere ufficializzato, tre poi i centrali, esattamente Carmelo Muscarà, Mattia Minuti e Michele Sulmona, l'opposto Roberto Corrieri e il palleggiatore Antonio Delfra. Al gruppo verranno aggregati alcuni elementi del settore giovanile che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico. Calcio di serie D, domani appuntamento al Ditella per il primo turno della Coppa Italia. Il Vasto Girardi, dopo aver eliminato nel preliminare il Termoli, si appresta ad ospitare la Vastese. Giocherà ancora una volta con il favore del campo il Vasto Girardi, che domani attende al Ditella Lavastese per il primo turno di Coppa Italia, dopo aver superato nel preliminare il Termoli. Composto da 64 gare ad eliminazione diretta, al primo turno partecipano le 38 società vincenti il preliminare e di 90 club aventi diritto. Saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari. Con un sonoro poker, la formazione altomolisana, quasi totalmente rinnovata, ha staccato il pass per accedere al turno successivo. Una gara, quella contro il Termoli, in cui la squadra ha confermato la bontà del gioco vista nelle amichevoli effettuate durante la preparazione precampionato. Ottime le prove dei nuovi acquisti, con Hernandez, Grandis e Lorusso, tutti a rete ben supportati da un buon gioco di squadra. Contro Lavastese si preannuncia una sfida interessante. La società biancorossa sta puntellando l'organico con giocatori di esperienza e giovani talenti. Ultimo in ordine di tempo l'ingaggio del classe 2000 Christian Minchillo, difensore all'occorrenza centrocampista nelle ultime stagioni tra le fila del Vasto Girardi. Mister Ferrazzoli avrà tutti i suoi uomini a disposizione in vista del primo impegno ufficiale, che aprirà poi le porte al campionato. Capito lo stadio, i lavori all'Aragona inizieranno per i primi di settembre. Le prime partite di campionato si disputeranno pertanto al De Santis di Montenero di Bisaccia. Il Vasto Girardi dovrà ripartire dal buon gioco espresso nel derby di una settimana fa. Sebbene il gruppo sia ancora alla ricerca della giusta amalgama, ogni singolo elemento ha messo in campo un mix perfetto di grinta, voglia ed esperienza. Buone indicazioni per Mister Coletti, che nell'occasione ha potuto testare i suoi ragazzi. Molto probabilmente l'undici che scenderà in campo domani non dovrebbe subire variazioni. Il costo del tagliando per assistere alla gara è di 10 euro. Intanto è partita la campagna abbonamenti. Solo grazie al tuo sostegno la realtà del Vasto Girardi Calcio può rimanere viva e vitale e continuare a regalare emozioni. Sostieni il territorio, sostieni i nostri colori, sostieni il Vasto Girardi. Questo l'appello lanciato dai gialloblu. Con fischio d'inizio alle ore 16, Vasto Girardi Vastese sarà diretta dal signor Giuseppe Scarpati della sezione di Formia, assistito da Beatrice Neroni di Ciampino ed Andrea Scionti di Roma 1. Archiviato il turno di Coppa, subito testa al campionato. Per i molisani subito un impegno fuori casa. La prima giornata sarà domenica 4 settembre alle ore 15 sul campo del Chieti. Calcio a 5, torna l'appuntamento con il quarto quadrangolare Città di Campobasso e con il terzo clinic Città di Campobasso. Il 10 settembre al Pala Unimol si sfideranno dalle ore 15 i padroni di casa del Cusmo Lise, il Manfredonia, l'ASD Canosa, lo Spartac Caserta. Il 30 settembre andrà in scena il terzo clinic Città di Campobasso con in cattedra relatori illustri. Interverranno Massimiliano Bellarte, tecnico della Nazionale Italiana di Futsal, e il professor Germano Guerra, docente universitario, direttore del Dipartimento di Medicina dell'Unimol e direttore del Programma Assistenziale di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico, ASREM Unimol. Ciclismo termina domani a Indiprete, frazione di Castelpetroso, il trittico del Molise. In agenda l'ottavo Memorial Carmine Tamburri. Si conclude domani il dodicesimo trittico del Molise con la disputa della terza ed ultima tappa, l'ottavo Memorial Carmine Tamburri, in programma ad Indiprete, frazione di Castelpetroso, organizzato grazie al grande sforzo profuso dal GS Molise Ricambi e dalla ciclistica molisana, con il patrocinio dell'assessorato allo sport della regione molise. Dopo Oratino e Boiano, toccherà dunque al paese in provincia di Sernia ospitare gli allievi provenienti da diverse regioni d'Italia che si daranno battaglia lungo un circuito impegnativo dal punto di vista altimetrico, con 10,4 km da ripetere 6 volte per un totale di 62,4 km con tratti di strada in salita e discesa, pianura praticamente assente. Il ritrovo per le operazioni preliminari è fissato a Indiprete alle 10.30 nei locali della scuola elementare, con partenza della corsa alle 15 e arrivo previsto intorno alle 17.30. Sono una ventina le squadre iscritte alla corsa di Castelpetroso, con oltre 60 corridori provenienti da diverse regioni d'Italia. Ai nastri di partenza anche la squadra siciliana Team Nibali, proveniente dalla provincia di Messina. Ci sarà Leonardo Consolidani del Team Coratti, attuale leader del Trittico del Molise, dopo due prove con 19 punti, seguito nella classifica generale ad una sola lunghezza, da Enea Sambinello, primo a Boiano domenica scorsa, e Fabrizio Laino del Pirata Official Team, che di punti ne ha collezionati 15. Nella speciale classifica riservata ai team comanda la ASD 1D+, con 61 punti davanti al Team Coratti e l'APS Cycling Team. Gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso, curando tutto nei minimi dettagli, e c'è da scommettere che sarà un'altra grande domenica sui pedali. A proposito della gara, ascoltiamo il primo cittadino di Castelpetroso, Michela Tamburri. Michela Tamburri, sindaco di Castelpetroso e figlia di Carmine, a cui è dedicato il memorial che chiuderà il Trittico del Molise, un evento di grandissima rilevanza. Sì, anzitutto vorrei ringraziare la Molise Ricambi, che è il gruppo sportivo che organizza l'evento commemorativo di mio padre, ormai da otto anni, e che consente tutta la macchina organizzativa di prendere forma e di portare in Molise tre manifestazioni ciclistiche così importanti. La nostra gara di domenica 28 agosto chiuderà l'ottavo Memorial Carmine Tamburri e il Trittico del Molise, con tutta una serie di cambiamenti e di modifiche che sono state apportate nei vari percorsi, ma sicuramente sempre con lo stesso entusiasmo e con la stessa partecipazione che contraddistingue il territorio molisano nei confronti delle due ruote. Per Castelpetroso sarà una giornata speciale? Sicuramente lo sarà, soprattutto nel ricordo di papà che tanto amava questo sport, ma soprattutto nell'augurio che questo sport riesca a riprendere piede e riesca a riprendere anche i numeri che un tempo il nostro territorio di Castelpetroso riusciva a contare con le varie società ciclistiche che potevamo vantare sul nostro territorio. Io ne ricordo almeno quattro con tantissimi appassionati e praticanti. Sempre per il ciclismo, domani si terrà la prova del percorso della seconda edizione del trofeo Gran Fondo MTB Atene del Sanni organizzato dal gruppo ciclistico amatoriale Agnone. L'11 settembre la gara con il ritrovo alle ore 8.30 presso la Valle del Cioccolato, la partenza alle 9.00. Si potrà scegliere tra due percorsi, uno più lungo di 43 km, il più breve di 23. Calcio regionale, la Coppa Italia apre la prossima stagione. Oggi e domani il primo weekend di calcio ufficiale in Molise. Nove le gare della domenica che andranno a chiudere il quadro della prima giornata del primo turno della Coppa Italia. Fischio d'inizio per tutte alle ore 16. Nell'aggruppamento all'Atletico San Pietro in Valle è chiamato ad ospitare il città di Sernia Michele Matarrese di Termoli, arbitro della Contesa. L'altra sfida è tra Aurora Alto Casertano e Altilia Samnium che si giocherà a porte chiuse sul campo di Pietra Milara. Fischietto Stefano Carano di Campobasso. Scendendo nel raggruppamento B si giocherà solo all'Acqua Santiani dove i padroni di casa ospiteranno il Boiano di mister Gianni Roberto, due buone formazioni che nel campionato di competenza potranno dire la loro, designato Corrado Ferrara di Isernia. Rinviato invece il match del Civitelle tra Olimpia Gionese e Rocca Ravindola. Non si giocherà neanche a Esernia Fraterna Castel di Sangro mentre Paolo Izzo di Isernia arbitrerà la gara tra Sesto Campano e Bois Vairano, match valido per il raggruppamento C. Nel girone G la neopromossa in eccellenza Turri sospiterà sul campo di Rotello il petacciato Federico Corbo della sezione di Termoli, arbitro della Contesa. In contemporanei gironi G ed H, Cliternina, Campomarino e Real Guionesi Baranello verranno dirette rispettivamente da Daniele Picciucco di Campobasso e Niccolò Granitto di Termoli. A chiudere il quadro le sfide tra Polisportia Fortore Montenero con arbitro Palmerino Esposito di Termoli e Campobasso 1919 Gambatesa che verrà diretta da Antonio De Lucia di Isernia. Sarà l'occasione per società e staff tecnico per valutare il lavoro di allestimento della squadra ed eventualmente intervenire sul mercato prima del weekend del 10 e 11 di settembre quando inizierà ufficialmente il campionato. Diversi gli anticipi di oggi per il girone D. Ieri si è giocata Venafro, Doink e Sagnone terminata 5-0. Oggi in campo Spinete versus Gioiese. Al Cannarsa si giocano i 90 minuti tra Termoli 2016 e Urura. Ururi nel girone F in anticipo la Juvenes contro il Pietra Montecorvino che giocheranno a Mirabello. Fischio d'inizio per tutti alle 16. L'Isernia domani farà il suo esordio in casa del San Pietro in Valle. Anche quest'anno la società ha allestito un organico competitivo. Facundo Cascio, altro importante tassello per la società della città di Isernia San Leucio. La società ha insistito molto per averti qui in città. Sì, leggevo un'occhiata al tuo curriculum, tante esperienze all'estero. Sei arrivato in Italia nel 2018, hai vestito la mela del Melfi in eccellenza lucana. Da lì un bel percorso con gol e prestazioni. Sì, sì, sì. La prima mia esperienza è stata lì a Melfi. Mi sono già dall'inizio mi sono trovato bene qua in Italia. Poi ho girato un po' al nord, al sud, ma adesso mi trovo qua a Isernia. Sì, Isernia è una piazza che ormai da qualche stagione cerca il salto di categoria in D. Nelle due annate precedenti ci è andata molto vicina, ma la testimonianza ha riconfermato un importante blocco di giocatori e poi ha inserito nuovi innesti, insomma, può dirla lunga sugli obiettivi poi stagionali. Sì, sì. Infatti, prima di venire qua mi hanno detto che volevano fare questo salto di categoria che da due anni che lo cercavano e sempre sono stati vicini. Quindi speriamo che questo sia l'anno per fare questo salto di categoria e rimanere lì. Che te ne è parso della rosa, anche se è ancora presto parlarne. Poi tu mi dicevi che puoi ricoprire sia il ruolo di ala che di trequartista. Sì, sì, sì. No, la rosa si vede una rosa forte, compatta già. L'importante è che l'anno scorso già sono stati insieme sei, sette giocatori, quindi quello è l'importante, fare gruppo e niente, allenare, allenare e lavorare sempre sul massimo. Sì, tu l'altro acquisto a Belfiore in difesa, poi a Giordano siete arrivati quasi insieme, siete stati inseriti nella stessa trattativa. Sì, sì, sì. Io a Giordano già lo conoscevo, ho giocato incontro e a Emi l'ho conosciuto qua e sì, siamo arrivati due giorni, tutti insieme siamo arrivati, quindi sì. Ancora una stagione con i colori rosso-blu del Baranello per Cristian De Simone. Cristian De Simone, ennesimo anno in promozione, cosa ti spinge a proseguire la corsa sul campo verde? Sì, cosa mi spinge è sempre la solita passione che c'è per questo sport e il gruppo che si è creato negli anni con i ragazzi qui a Baranello, diciamo che è un ambiente molto familiare e vediamo anche quest'anno cosa può succedere. Sei diciamo tra i vecchietti terribili, con te Zurlo, Berardini, lo stesso mister Di Chilo, insomma una vecchia guardia che punta a trascinare il Baranello dove, secondo te? Sì, diciamo difendiamo la classe 80, ora si è aggiunto anche Massimiliano Berardini e gli do il benvenuto. Un giocatore che ci può dare tanto sia a livello di qualità in campo sia a livello di spogliatoio. E per quanto riguarda gli obiettivi vediamo, dai, mano a mano la squadra ancora magari è da completare, è tutto, c'è un mix come al solito di giovani e vecchietti come hai detto tu. L'importante è dare sempre il massimo, come dico io, e poi gli obiettivi man mano vediamo dove possiamo arrivare. Lo scorso anno avete faticato un po' a causa di vari problemi. Quest'anno si spera in una stagione un po' più tranquilla e magari togliervi qualche bella soddisfazione. Sì, l'anno scorso sapevamo già dall'inizio che l'annata non sarebbe stata molto semplice perché abbiamo puntato molto sui ragazzi del posto che si sono ben comportati e quest'anno magari hanno quel bagaglio di esperienza che ci può dare una mano in più per migliorare sicuro la passata stagione. Venerdì prossimo a Larino in programma il torneo di calcio a 5 in memoria di Enrico Mastro Giuseppe con la partecipazione di quattro formazioni, il Cus Molise di A2, lo Sporting Venafro di Serie B e il Montorio nei Frentani, la Frenter Larino di C1. La manifestazione si svolgerà nella palestra di Santa Chiara a partire dalle 15. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon fine settimana! Grazie! 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 Grazie!